buongiorno a tutti benvenuti a questo inglese facile io sono sorella cook io sono qui come una missionaria per la chiesa di gesù cristo dei santi degli ultimi giorni e io vengo dal canada quindi io sono qua per aiutare le persone a sapere di più di inglese adesso quindi oggi io voglio spiegare un po' delle cose basilare in inglese una cosa bella è che in inglese non ci sono le parole che sono femminili nei maschi quindi non c'è un articolo specifico per queste parole un e una sarebbero a o an se la parola seguente inizia con una vocale come quando voi dite un appartamento noi diciamo un appartamento perché appartamento inizia con una vocale per esempio una torta sarebbe a cake una mela sarebbe un apple perché apple inizia con una vocale ma è importante accorgersi che E soltanto usiamo questo quando è una parola singolare. Quando c'è una parola plurale, noi diciamo the. E usiamo questo per come il, la, le, i. Quindi usiamo the per le parole plurale e anche singolare. Quindi per esempio, la amica significa the friend. Facile, no? Anche se voi volete sapere di più, noi facciamo un gruppo di inglese qui gratis ogni martedì e giovedì sera dalle 19 fino alle 20 a via Vezzano, 11C, Scala D.